Il riassunto di questa giornata, almeno fino a questo momento, nel telegiornale. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo con una buona notizia nella sua drammaticità e capirete il perché. In questi giorni la Caritas di Serravalle Pistoise sta distribuendo alcuni soldi, mille euro di aiuti alle famiglie bisognose del territorio di Ponte di Serravalle, Masotti, Serravalle e Castellina. Importante questo perché si dà una boccata d'ossigeno a queste famiglie che hanno grosse difficoltà, ma purtroppo c'è da capire che queste famiglie hanno queste grosse difficoltà. A rendere possibile questa iniziativa è stata la generosità del Rotary Club Pegaso Alumni nella persona di Lucia Aghieri della ditta MCM del Circolo Ponte di Serravalle a PS. Nei prossimi mesi seguiranno altri progetti di questo genere. I titoli delle principali notizie di serata. Parco di Pinocchio e Collodi hanno fatto da sfondo la festa dell'arma dei Carabinieri che oggi ha ricordato i 210 anni dalla Fondazione. Molto sentito il momento dedicato ai riconoscimenti per quanto fatto dai militari. La Guardia di Finanza di Pistoise ha arrestato un imprenditore originario della Campania ma residente in provincia, ritenuto responsabile di baccarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e turbative di aste fallimentari. Proteste nella frazione collinare delle Grazie a Pistoia per l'assenza di opere di manutenzione al cimitero. A preoccupare sono soprattutto le pessime condizioni del muro di scinta. Il luglio Pistoiese continua ad arricchirsi di iniziative. Palazzo del Tau è pronta ad aprire le porte ad una mostra di 50 opere dell'artista pistoiese Marino Marini. Seconda sfida di finale play-off e secondo successo per la Favo Aarons Montecatini che ieri sera di fronte a oltre 2.500 spettatori ha nuovamente battuto la del FES di Avellino. Ai Rosso e Blu ora manca un solo successo per andare in serie a due. Andiamo a Collodi noi invece per la Festa dei Carabinieri, 210 anni dalla Fondazione. Il parco di Pinocchio a Collodi è stata a cornice per la Festa in provincia dei 210 anni della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La Festa, come da tradizione, è stata occasione per la consegna dei riconoscimenti a militari che si sono particolarmente distinti per il proprio operato. Un lavoro che, come è stato ricordato dal comandante provinciale, il colonnello Stanislaw Nacca, durante la cerimonia, qui hanno partecipato le massime autorità civili, politiche e religiose epistoiesi e rappresentanti degli altri corpi che operano sul territorio, ha portato, nell'anno appena trascorso, ad oltre 9.600 interventi, a seguito di più di 19.000 chiamate giunti al numero 112. Negli ultimi 12 mesi sono state 231 le persone arrestate, più di 1.700, quelle denunciate in stato di libertà, su di un totale di 10.678 delitti denunciati. Tra i reati che hanno destato maggiore allarme sociale, quelli predatori, le cui indagini dell'arma hanno portato all'arresto di 40 persone per furto, 19 per rapina. Indagini che hanno avuto tra i settori toccati quello dei furti di piante nei vivai, 8 sono stati per questi gli arresti, 4 i denunciati, migliaia di piante recuperate. Il lavoro intenso che è stato svolto durante quest'ultimo anno ci rende soddisfatti di quello che abbiamo fatto, anche perché dalle statistiche che vengono pubblicate su Sole 24 Ore, anche su altri quotidiani, c'è un indice di criminalità che è basso per quanto riguarda la città e la provincia di Pistoia e c'è anche una soddisfazione espressa dalla popolazione per l'attività svolta dalle forze di polizia sul territorio. Quindi di questo ovviamente siamo orgogliosi e siamo anche grati della collaborazione che abbiamo con tutte le altre forze di polizia. Un anno che per la provincia di Pistoia è stato segnato anche da tre omicidi, per due dei quali sono state arrestate altrettante persone, mentre sono in corso senza sosta le indagini per individuare il responsabile della morte di un uomo trovato senza vita nel marzo scorso in un albergo abbandonato di Montecatini. Noi abbiamo avuto tantissimi carabinieri con le case piene di fango, però era gente che si è messa all'uniforme ed è andata ad aiutare prima gli altri lasciando mogli o mariti a casa, diciamo così, impossibilità di dare una mano proprio ai propri gali. E questo insomma la dice lungo sul fatto che c'è il servizio, c'è la vicinanza alla popolazione e per noi questo è fondamentale, è un nostro punto di forza. Un abbraccio quindi a tutta l'arma dei carabinieri, dai carabinieri per la festa, alla Guardia di Finanza che invece ha effettuato un'operazione. La Guardia di Finanza di Pistoia è arrestato un imprenditore 37enne originario della Campania ma da tempo residente in provincia di Pistoia, ritenuto responsabile di diverse condotte di banca rotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e turbativa di aste fallimentari. È stato disposto anche un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pistoia su richiesta della Procura della Repubblica. Oggetto del sequestro, le disponibilità finanziarie e preziose, le quote societarie direttamente o indirettamente detenute dallo stesso personaggio. In pratica sono stati sequestrati i valori per oltre 620.000 euro in porto pari ai beni distratti per sottrarli alle procedure di riscossione coattiva delle imposte nel tempo non versate. Sequestrata anche una struttura alberghiera che si trova a Montecatini e i relativi beni strumentali, il cui valore di perizia supera i 2 milioni e 100 mila euro. Si tratta di un prestigioso compendio turistico già di proprietà di una società amministrata dal soggetto arrestato, poi fallita, del quale era riuscito a riappropriarsi illecitamente. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Pistoia con l'ausilio della sezione di polizia giudiziaria hanno consentito di risalire al principale indagato, che pur già condannato in via definitiva per banca rotta, aveva continuato a commettere una serie di reati fallimentari e tributari, utilizzando soggetti giuridici sempre nuovi, intestati a compiacenti prestanome. In sintesi, queste società del settore turistico alberghiero, dopo aver accumulato senza onorarli ingenti debiti commerciali, tributari e previdenziali, venivano sistematicamente spogliate del loro patrimonio e condotte al fallimento. I relativi immobili e beni strumentali restavano però nella disponibilità del fallito, nascosto dietro apparenti nuove imprese che li acquisivano prima che potessero essere inseriti nell'attivo fallimentare. Oppure partecipavano alle relative aste fallimentari, producendo anche documentazione artefatta per ottenerne in debiti e aggiudicazioni. Nell'indagine sono finite altre otto persone residenti a Montecatini, Firenze, Adro in provincia di Brescia, Trani in Puglia e Giuliano in Campania. Sono un po' di proteste per le condizioni precarie del cimitero nella frazione pistoiese collinare delle Grazie. I problemi principali attualmente sono la risistemazione del muro di recinzione che è crollato lato strada. Un muro di cinta in pessime condizioni da anni è a novembre definitivamente crollato nella parte che costeggia la strada. Camminamenti e scalini rovinati, crepe di diversi centimetri che sembrano annunciare cedimenti imminenti. Sono le condizioni del cimitero della frazione di Le Grazie sulla prima collina pistoiese. Io ho proprio la mamma sotto vicino alla fontana, ero tutta contenta perché l'ho andata nella tomba vicino al mio babbo, ora gli è crollato il muro proprio al lato. Sono preoccupata perché io non posso venire al cimitero, mi vengono persone in carico e ho paura se li prendo una sassata in testa. Dove è anche la responsabilità verso queste persone che mi fanno il piacere di portare un fiore lì. Le problematiche di tutto il muro di recinzione perché prima che quello crollasse ha cominciato a creparsi quella zona là dove ci sono delle tombe storiche, si parla di tombe del 1800, quindi la nostra paura oltretutto è anche che crollando il muro si danneggino quelle lapidi antiche. Mentre nella parte centrale sta proprio sprofondando la pavimentazione, oltre a questi scalini dove purtroppo loro sono costretti, quelli dei cimiteri, a passare con i mezzi e ogni volta gli scalini si rompono. I residenti chiedono dunque interventi risolutivi di manutenzione straordinaria ma lamentano anche l'impossibilità di eseguire d'ora in poi quelli più minuti. Fino a qualche mese fa si era interessato al comitato paesano per il taglio dell'erba, la sistemazione tra le tombe, però siccome il comune non ha pagato neanche il passato ci troviamo scoperti nei confronti di chi con qualche sacrificio deve essere pagato e quindi siamo ancora in debito. Chiaramente abbiamo avvertito gli assessori competenti e funzionari che in questa situazione crea un abbandono della manutenzione da parte del comitato, non solo del cimitero ma dei giardini pubblici, aiole, quindi non ci resta che attaccarsi al telefono e chiamare il comune per fare tutte queste cose. Marino Marini torna a mostrare le sue opere. Pistoia compie un passo in avanti verso la riapertura del Museo Marino Marini con una mostra di 50 opere del maestro, installazione che sarà fruibile nei fini settimana dal 6 al 28 luglio nei locali dell'ex chiesa del Tau e il Palazzo del Tau. Abbiamo voluto organizzare questo evento in occasione del luglio pistoiese che presumibilmente, prevedibilmente e auspicabilmente attrarrà anche dei turisti, quindi ha voluto essere nelle nostre intenzioni un abbraccio di Marino alla città. La iniziativa della rinnovata Fondazione Marino Marini di fare delle aperture appunto del luogo museale ha avuto da parte nostra un'entusiastica accoglienza e faremo in maniera che durante queste aperture la chiesa sia visibile insieme alla parte che viene appunto riaperta della fondazione. Un passo in avanti verso una riapertura, quella del museo, che è tuttavia ancora in fase di sviluppo. Ora stanzieremo il finanziamento per i lavori, i lavori dovranno essere messi a gara, fatti, quindi richiede tempo, ma ripeto, naturalmente questo luogo è importante e l'obiettivo è quello di riapirlo, ma come abbiamo dimostrato oggi e come possiamo dimostrare in futuro c'è modo il modo di lavorare per valorizzare l'opera, far vedere Marino Marini, farla conoscere, portarla fuori, come la fondazione ha fatto sempre, devo dire questo, all'estero in grandissime esposizioni. Quindi c'è questo luogo, c'è l'importanza di fare lavori, però c'è un lavoro che può essere fatto per far fruire ai nostri cittadini e ai turisti di queste bellezze. Nei giorni scorsi si è tenuta l'assemblea dei soci pubblici e privati del distretto rurale e forestale della montagna pistoiese, un'occasione per fare il punto sul lavoro svolto in stradare le azioni verso i nuovi obiettivi. Alcune delle novità emerse riguardano l'organizzazione dell'ente che avrà ora una sede fisica a Campo Tizzoro presso l'Unione dei Comuni e le attività in collaborazione con il GAL, il gruppo di azione locale Montagna Appennino, come soggetto tecnico. Il percorso tracciato punta molto sulla formazione e sui giovani. Parliamo di podcast, parliamo di studenti del Pascini di Pistoia. Hanno raccontato l'amore tormentato di Paolo e Francesca con il loro sguardo di giovani attraverso un podcast, lavoro che ha permesso loro di vincere il concorso regionale promosso dalla società Dante Ligieri di Firenze in collaborazione con l'Accademia della Crusca, protagonisti del progetto battezzato Risplendenti nell'Oscurità, gli studenti della terza C del linguistico del Pacini di Pistoia. Il titolo Risplendenti nell'Oscurità secondo noi racchiude il contrasto fra l'amore di Paolo e Francesca e le tenebre dell'inferno. Il concorso ha visto gli studenti pistoiesi primeggiare su decine di scuole della Toscana, chiamate anche loro a riflettere sulle parole delle emozioni e dei sentimenti di Dante. Cosa vi avvicina come giovani alle passioni e ai sentimenti dei protagonisti di questa storia? La nostra età soprattutto perché è l'età dei primi amori, possiamo dire, e quindi è un sentimento a cui ci sentiamo molto vicini. Ragazzi e ragazze della terza C hanno così scelto di tradurre il loro studio in forma di podcast. Si divide in cinque puntate principali, una puntata di introduzione e quattro dove sviluppiamo l'argomento. Abbiamo deciso di utilizzare questa forma proprio per superare la tipica lezione italiana tradizionale, per esplorare anche questo nuovo metodo innovativo che si sta diffondendo molto nella nostra generazione. Tra racconto audio su più puntate, che con una sezione in inglese legata alla traduzione di Byron dell'episodio dedicato ai due amanti, ha avuto come perno alcune parole chiave. Talento, amore e affetto, disio libiso e lussuria. Queste parole rappresentano il sentimento amoroso e lussurioso che troviamo nel canto quinto dell'Inferno di Dante. Sono quelli che racchiudono più o meno tutti i sentimenti e le emozioni che possiamo trovare all'interno della commedia. Abbiamo voluto aggiungere una parte in inglese per dare importanza e per rendere Dante noto come un personaggio che ha globalizzato non soltanto la letteratura italiana ma la letteratura di tantissimi paesi. In questo modo siamo riusciti come una squadra a portare avanti un progetto comune che ci ha portato a un risultato molto buono e quindi sono contenta. Ho visto i ragazzi che si sono entusiasmati, appassionati a questo lavoro anche in lingua inglese e quindi per me è un grande risultato come inseggiante, come docente. Un po' di politica. Giacomo Grifo è uno dei candidati a sindaco del comune di Bugiano. Conosciamolo. Sono tre i candidati a guidare il comune di Bugiano per i prossimi cinque anni. Tra loro Giacomo Grifo, consigliere di minoranza uscente, si presenta a queste nuove consultazioni con la lista Uniti per Bugiano. Faccio politica del 2009, dove sono stato eletto per la prima volta con la lista politica Estrasce. Poi nel 2014 arrivo secondo su 56 consiglieri candidati, privo della mia lista. Nel 2019 vengo rieletto con una lista politica, no civica. Quando si dice politica, si dice con tutti i simboli attorno al logo. Quando si dice civica, i simboli non esistono, in quanto è civica vera e propria. Noi vogliamo lavorare sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie del paese, sui cimiteri, che i cimiteri sono una cosa importante per me, sul battente idraulico, che è un'altra cosa importante qui nel centro del paese, che dal 2018, quando è stato innalzato il battente, tutti i fondi commerciali sono lì chiusi, perché non si può fare neanche il cambiamento di destinazione d'uso, in quanto il battente ce lo vieta. Come sull'edilizia popolare, che è un altro passaggio importante, che ci interessa, ci interessa pure il turismo, cioè riportare alla luce i vecchi sentieri che oggi sono tutti abbandonati e che potrebbero servire per far muovere quello che è anche il commercio, perché se non si affida al turismo in questi paesi, così dove non c'è nessuno che ci gira, che il turismo potrebbe essere un passaggio importante per far ripartire piano piano anche il commercio. A Prato è stato lanciato il concorso Fa Volare il Tuo Talento. L'associazione Jack Nuotatore Volante prosegue la sua missione per stimolare i giovani a realizzare le loro aspirazioni nello sport e negli studi, nel segno del campione aglianese Giacomo di Napoli, scomparso in un incidente in Aliante il 9 luglio del 2022. L'ultima iniziativa è stato il concorso Fa Volare il Tuo Talento, con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Fermi e la scuola elementare Claudio Pudu di Prato. I partecipanti sono stati invitati a realizzare un breve video in cui mettere in evidenza il proprio talento. Con questo progetto Fa Volare il Tuo Talento abbiamo voluto evidenziare e far mettere in gioco i ragazzi sul proprio talento e quindi ci hanno mandato video filmati dove loro esaltano le loro doti. Studiare è fondamentale, ma coltivare anche il proprio talento nella musica, nell'arte, nella lettura è una delle cose che rimarranno nel tempo, quindi è utile che i ragazzi fin da ora lavorino appunto per coltivare le loro passioni e i loro hobby. Secondo me coltivare un talento è comunque una cosa importante perché ti dà anche uno scopo nella vita e ti impegni in quello che fai. Sicuramente è importante perché fare una cosa che ti piace è una cosa che comunque poi ti porta ad arrivare a cime molto alte. È rappresentare la propria persona come si vuole e con le cose che ci piacciono di più, quindi è molto importante averli e seguire i propri scopi e talenti. Credo che per noi giovani sia molto importante appassionarsi a qualcosa perché oltre appunto ad accomunarci può aiutarci nei momenti difficili e a liberarci di ciò che teniamo dentro. Vorrei mandare un messaggio a tutta la gente che mi sta guardando, cioè di portare avanti il proprio talento e di non dimenticare mai il simbolo che è stato Giacomo. Andiamo sull'Appennino, scavalchiamo l'Appennino, andiamo in provincia di Modena a Fiumalbo, un'occasione della celebrazione del Corpus Domini si è tenuta tradizionale infiorata. Fiumalbo vanta una tradizione collegata alla celebrazione cristiana del Corpus Domini, le cui origini risalgono tra il XIII e il XV secolo. Si tratta dell'infiorata e viene praticata nelle vie del centro storico della città d'arte durante la processione del Corpus Domini. La tradizione era buttare i fiori durante la processione e alle finestre venivano messi tappeti rossi per onorare il Corpus Domini. Dario Brugioni, Eugenio Ballantini e Fabrizio Brugioni nel 1990 arricchiscono l'infiorata di Fiumalbo con una nuova chiave espressiva. 35 anni fa abbiamo fatto la prima infiorata con il tappeto floreale per terra e da lì ci ha preso passione. Il giorno che precede la manifestazione vengono raccolti i fiori che offrono i giardini e le montagne di Fiumalbo e alla sera gli infioratori disegnano i contorni dei tappeti che prendono colore a partire dalla prima mattina del Corpus Domini. Ci teniamo che i disegni vengono fatti anche dai bambini, che anche loro cominciano ad appassionarsi al tema delle stagioni di fiori e dell'anno liturgico che in fondo segue l'anno solare. Ora ci sono centinaia di persone che ci danno una mano a fare questa manifestazione che è diventata un classico. Il tema quest'anno era l'anno liturgico. In piazza Umberto I, davanti alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo, prospicente a quella dell'Immacolata, riluce il tappeto più grande che rappresenta l'Eucaristia, dove si leggono anche i riferimenti coincidenti a simboli pagani. Il calice con un'ostia che un po' di più rappresenta il sole e il calice rappresenta la luna, è circondato dai simboli dei pianeti. La candela della candelora, il golgota con le tre croci della passione e la festa di Santa Croce, ricordata da un tappeto iconico, completano la coreografia a tema e nella chiesa di Santa Caterina si distingue una rappresentazione biblica dal sapore attuale. Siccome la vicenda di Moio Sassone e tutti i filistei si è svolta nel Tempio di Gaza, ci è venuta questa idea di riproporre questo copia in colla della pagina della Bibbia, un po' a mettere il dito nella piaga della situazione attuale. Ci fermiamo a pochi istanti, la pagina sportiva poi torniamo a noi con le ultime notizie. Grazie